Ben arrivato, ciao Marco, ti posso baciare? Ben arrivato, siamo felicissimi di vederti qua dopo due anni, ti abbiamo ospitato qua due anni fa belli pronti, loro sono emozionatissimi, non vedono l'ora di salutarti e di avere la tua firma sul cichi meraviglioso tra l'altro che abbiamo ascoltato e continuiamo ad ascoltare tuttora guardate sono proprio emozionati alla grande allora a questo punto iniziamo subito con i ragazzi sotto che da questo povereggio sono qui in attesa e hanno cantato tutti i brani Marco Vendoni, centro commerciale Pallestrada Atlantico, firma copie di questo suo nuovo lavoro la musica alta allora mi voglio allora intanto vi vedo tutti belli pronti a immortalare Marco qua sotto ma poi vi ricordo che quando salite sul palco c'è il fotografo ufficiale è bello pronto a fare le foto insieme a voi e insieme a Marco per cui poi depositate i vostri cellulari dentro le vostre tasche fatta la foto, hai fatto la foto Adriano? Bene! gliel'hai dato il libricino, gliel'hai dato il foglietto a Marco? grazie a tutti Grazie.